Un saluto a tutti voi miei cari amici dei social e del canale YouTube. Prima di andare a parlare dell'argomento di oggi che è molto interessante, vi ricordo sempre il segui per quanto riguarda i social e iscrivetevi al mio canale YouTube Figlio Ortodico 65. Ringrazio anche gli amici della pagina Facebook Aquila Scoop, ma tutti i social e quindi anche il canale YouTube. Oggi andiamo a parlare di Belen Rodríguez, Belen Rodríguez che era sparita un po' dai radar, effettivamente furiosa, arrabbiatissima, ho letto una sua intervista, ho potuto capire che cosa è successo, furiosa con l'ex marito Stefano De Martino, dopo l'intervista fatta al programma dei Giene da Francesca Fagnani, la quale non so com'è, tira da tutti questi ospiti cose impensabili, cose indecifrabili, eccetera. compagna di Mimmo Mentana, direttore del telegiornale di La Sette di Sinistra, e questo lavora in Rai di Sinistra, perché infatti, dice, furiosa lo chiama traditore, vigliacco, bugiardo, eccetera. La nostra storia è finita definitivamente nel 2022, infatti sono sparite fedi inunziali, foto su Instagram, eccetera, quando lei ha scoperto che Stefano De Martino stava con Martina Trivelli, che lavora nel mondo del beauty, della bellezza, e ha circa 13.000 follower su Instagram, poi non so perché tutti su Instagram, anche ieri con Paolo Bonoli su Instagram, tutti quando sono a problemi di social, sono tutti uguali, non ce n'è uno peggio dell'altro, sono tutti uguali, quindi non c'è, eccetera. Diciamo che, partiamo intatti dal presupposto, dire che Beleno Dico è un patrimonio immenso, di quasi 2 milioni di euro, per tutto quello che ha fatto in questi 15 anni già di carriera, ne ha 39, e quindi da quando era giovane ha fatto sempre soldi, soprattutto nei programmi Le Iene, Tussiche Vales, eccetera, prendeva 25.000, 30.000 euro a puntata, e poi i calendari che ha fatto, i tre calendari, tre, non uno, tre, che ha venduto quasi 5 milioni di copie, come se noi italiani fossimo un mondo di arrapati, proprio abbiamo fatto schifo a comprare tanti calendari, io non lo so, sicuramente, posso parlare anche di qualche donna, però comprare 5 milioni di calendari di Beleno Dico, significa essere fuori di testa, ne ha fatti due nel 2006, uno con V.M. e uno con Denardi, e poi quello, pazzesco, del 2008, dove era, probabilmente, lasciamo stare, Maxim, fatto qualche film, qualche comparsa, a Montalbano, a Cine Panettoni, con Cristian Esiga, e Massimo Chini, voglio dire, ha fatto tanto, si è sposata nel 2015, scusatemi, nel 2013, nel 2013, con Stefano De Martino, dopo che Stefano De Martino stava con Emma Marrone, dal 2009 al 2012, si sono conosciuti nel 2012, faceva Stefano De Martino le corna a Emma Marrone, sono conosciuti ad amici nel Talent, in cui Belen era in giuria, l'ha visto, si è innamorata folle, se ne è fregata un cavolo che stava con Emma Marrone, gli ha fatto le corna in un anno, in un anno se l'è preso, essere sposato, sono stati insieme dal 2013, al 2015, il tempo di fare il piccolo Santiago, già ha dieci anni, credo, insomma, una cosa del genere, non hanno fedi enunziali, hanno tolto le foto di Instagram, la rottura, hanno provato a tornare insieme nel 2019, poi nel 2020, nel 2022, e poi c'è stato questo tradimento di Stefano, De Martino, con questa Martina Trivelli, ha scoperto Belen, che la tradiva, perché o la rifiutava, o doveva tardi, o poi Belen, tra l'altro, ha questo male, ha questa patologia, è dimagrita molto, dice, negli ultimi tempi, ma i suoi amici, un certo Ragusa, e anche Fabrizio Corona, parla che, Belen Rodriguez, è dipendente, quindi, diciamo così, dall'intimità, ecco, gli piace molto fare, intimità, quindi, se non ha, una corrispondenza, è chiaro, che va a trovare altri, ma, se Stefano, De Martino, si è fermato, a M Marrone, Martino, Trivelli, Martina Trivelli, a Belen Rodriguez, certo lei, non è stata di meno, vuol dire, è stata con Marco Borriello, è stato con Fabrizio Corona, è stata con Fabrizio Corona, già è tutto dire, questo già è libero, ma credo che, neanche un mese e due, tornerò in galera, perché vi racconterò, che cosa ha fatto, che cosa ne ha fatta un'altra, per cui c'è una denuncia in corso, ce ne ha fatta un'altra gravissima, e ve ne parlerò, nei prossimi video, poi ha sposato Stefano, De Martino, con cui ha avuto Santiago, poi man mano, che sono lasciati, eccetera, ha avuto storie, quindi anche con, quello della GP, che portava le moto, campione, per modo di dire, non ha mai vinto niente, Andrea Iannone, poi è stato con Antonino Spinalbese, con cui ha comprato una figliola, ha fatto una figliola, Marie, Luna Marie, che vive con lei, quindi lei è a Santiago, e Luna Marie, e poi adesso sta con questo, Elio Lorenzoni, che è un imprenditore di Brescia, col quale, sembra stare per la meglio, ma l'altra cosa grave, che era stata invitata, al programma di Red 2, stasera c'è Cattelan, di Alessandro Cattelan, che effettivamente, fa poco share, se pensate che fa, il 5% di share, questo prende 500 mila euro, per tutto l'anno, fa il 5% di share, alla fine della trasmissione, addirittura arriva all'1,5%, praticamente si guarda solo, ci saranno qualche 100 mila, 200 mila telespettatori, che guardano il programma, quindi i soldi, tra l'altro, alla RAI, i soldi li ridiamo noi, con i canoni, quindi con il canone, quindi fa quello che vuole, e quindi ci mette tutte le porcherie possibili, un programma, non si è presentata, al programma, di Alessandro Cattelan, doveva prendere, tra l'altro Belen, 20 mila euro, per questa intervista, e Alessandro Cattelan, durante tutto il programma, ha insistito, a prenderla in giro, anche se c'erano gli altri ospiti, continuava a prenderla in giro, fin quando, sono intervenuti, a difesa di, Belen Rodriguez, manco a dirlo, oltre che lei, ha fatto queste dichiarazioni forti, chiamando bugiardo, vigliacco, traditore, seriale, ne ha dette di tutti i colori, a Stefano, de, Bartino, ma, a difesa di, Belen Rodriguez, sono interessati, sono intervenuti, questo, Alessandro Ragusa, che si occupa di gossip, io non ho mai sentito in vita mia, quindi, 30 anni che faccio il giornalista, non ho mai sentito, e Fabrizio Corona, ha detto, lasciate in pace, Belen, perché non sta bene, sta lottando, contro questo suo, male oscuro, che la tormenta, da tanti anni, che cosa sarà, questo male oscuro, di Belen Rodriguez, molti pensano, molti pensano, che la patologia, della ninfomania, non sia curabile, o almeno, non sia limitabile, se possiamo dire così, per cui, è un male, che la porta, anche a non volere, come l'iperessualità, riguardo agli uomini, ma gli uomini sono predatori, già per natura, la donna, anche se vuole fare la seria, a volte è spinta, da questa forma, ormonale, così, devastante, e per cui, adesso sta male, perché sta facendo, una terapia molto forte, si parla di questo, ma anche si parla, di un'infezione, si parla, di covid, si parla di tanto, voglio dire, però, tra il fatto, che è stata, immortalata su Instagram, il giorno prima, di andare da Cattelan, che stava, in villa, con drink, e dei sigari, quindi, è stata presa, è stata presa, probabilmente Cattelan, è stato preso in giro, è stato preso, per così dire, per il culo, e questo non se l'ha sentita, perché, aveva annunciato, aveva fatto, gli annunci, sul Rai 2, ci sarà, Beneno Rodriguez, dopo tanto tempo, esce dal guscio, eccetera, ma, Beneno Rodriguez, quindi, lotta contro questo male, sarà la, la ninfomania, sarà questa, infezione, che lei ha, sarà, qualche problema alto, il fatto, che era sparita, un po' dai radar, adesso, è tornata, e ha sparato a zero, contro le bugie, che avrebbe raccontato, Stefano De Martino, chiamato, bugiardo, vigliacco, e traditore, seriale, il peggio, che si possa dire, ad un uomo, poi, nel prossimo video, vi parlerò, vi parlerò, di Belen Rodriguez, dove andrà, a lavorare, dopo Benetra, se ha trovato già, casa, importante, quindi, amici miei, il segui sui follower, e iscrivetevi al canale, di Figliol Prodigo 65, vi voglio bene, alla prossima,